Siamo con il vicepresidente del Tavagnacco, Domenico Bonanni. Inizia la prevendita per questa grande partita alla Dacia Arena Stadio Friuli del 16 dicembre. Quindi bisogna lanciare un appello a questi friulani perché partecipino, perché vengano allo stadio e vengono a tifare il Tavagnacco. Sì, certamente. Questa partita sta diventando un classico. L'anno scorso abbiamo fatto circa 5.500 partecipanti. Quest'anno abbiamo chiesto alla Questura e ci ha autorizzato ad allargare fino a 7.500 persone. Quindi ci aspettiamo di fare il pieno in una cornice che realmente nessun'altra partita del campionato di Serie A femminile fino adesso ha avuto. Quindi potrebbe essere proprio anche una vetrina per il calcio femminile. Demostrazione che anche una società piccola o senza una grande squadra di Serie A alle spalle può dire la sua e può presentare, proporre un palcoscenico importante. Sì, ringraziamo ovviamente l'Udinese di averci dato questa possibilità, ma è realmente così. Oggi, almeno fino ad oggi, nessuna grande squadra, Milan piuttosto che Juventus, hanno organizzato una partita del campionato in uno stadio di quelli classici da Serie A maschile ed è veramente per noi un vanto.